La Puglia va verso la riconferma della zona rossa. Si attende la decisione in giornata del Ministero della Salute dopo la cabina di regia. Ieri quasi 2000 nuovi positivi e 51 i morti. Vaccini. La Puglia supera le 7.000 dosi inoculate. L'Istituto Tumori di Bari vaccinerà fino a mezzanotte. Questa mattina lunghe code al lab vaccinale della Fiera del Levante. Riccardo Cristello, operaio di Erselo Ormittar, racconta le varie fasi che nel giro di pochi giorni lo hanno portato a licenziamento il provvedimento della direzione aziendale, scaturito da un post di Cristello che invitava la visione della Fiction Mediaset sulle missioni inquinanti di un'acciaieria. Buon pomeriggio. Puglia verso la riconferma della zona rossa. Dunque si attende in giornata la decisione del Ministro della Salute Speranza dopo la cabina di regia. Intanto ieri quasi 2000 nuovi casi positivi e 51 morti in Puglia. Con oltre 293 casi covid ogni 100.000 residenti e ospedali sempre più pieni, la Puglia va verso la riconferma della zona rossa per almeno altri sette giorni a partire da martedì prossimo. La decisione del Ministero arriverà in giornata dopo la cabina di regia, ma i dati indicano ancora un'alta pressione sul sistema ospedaliero e il numero di contagi alti, nonostante una lieve flessione. In Puglia infatti è stato toccato il nuovo picco di occupazione dei posti letto covid in area medica, cioè nei reparti di malattie infettive e pneumologia. Secondo il report dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, il 54% dei posti è pieno, 14 punti percentuali oltre la soglia critica. Situazione complicata anche nelle terapie intensive dove il tasso di occupazione è invece al 46% in crescita, 16 punti oltre il limite del 30% fissato dal Ministero della Salute. Il report settimanale della Fondazione Gimbe dice che dopo un mese di crescita costante la curva epidemiologica dà i primi segnali di flessione, ma un rallentamento molto lento. Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile c'è stata una riduzione del 6% dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente, però è peggiorato l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. Il bollettino regionale delle ultime 24 ore non lascia spazio a equivoci, con quasi 2.000 nuovi contagi e 51 morti. Vaccini direttamente in corsia per chi lotta contro il male del secolo, è partita così la somministrazione dei vaccini anti-covid ai pazienti oncologici che sono ricoverati nelle parti del Policlinico di Bari. La Puglia ha ampiamente superato le 700.000 dosi anti-covid. Nei prossimi giorni fa sapere la regione verrà data priorità alle vaccinazioni delle persone estremamente vulnerabili e affette da patologie oncologiche e oncoematologiche e da malattie rare. Insieme ai rispettivi caregiver e familiari conviventi, il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha attivato tutti i centri specialistici di riferimento per vaccinarli nel più breve tempo possibile. Quindi i grandi centri ospedalieri sono attivati per queste fasce di fragilità e stanno operando parallelamente agli hub e ai centri vaccinali che sono invece impegnati nel completamento della prima dose per gli ultraottantenni e nella somministrazione delle seconde dosi. In campo ci sono anche i medici di medicina generale che stanno portando avanti le vaccinazioni degli ultraottantenni a domicilio e dei fragili. Per quanto riguarda le persone affette da malattie rare, che sono circa 22.500 nella nostra regione, il Dipartimento Salute si sta muovendo in sinergia con i presidi della rete nazionale, i nodi della rete regionale e i nodi della rete regionale pugliese delle malattie rare e dal coordinamento regionale malattie rare di Ares. Se non riusciamo ad essere veloci nel vaccinare quanta più gente possibile, mettiamo in sicurezza persone che oggi rischiano la vita, a cominciare dai più fragili e da chi è più grande di età. I medici di medicina generale devono avere un filo diretto con le asle, ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell'incontro con circa 450 medici delle province di Bari, Taranto e Foggia. Ci spostiamo ora a Taranto, dove l'ospedale Moscati è finito sotto accusa nelle ultime settimane a livello nazionale per la gestione Covid con diversi morti. E allora noi siamo andati proprio all'ospedale Moscati per vedere cosa sta accadendo. È finito nel mirino delle accuse, anche a livello nazionale. L'ospedale Moscati di Taranto è stato additato su media e social network per le morti avvenute nella struttura. Alcune famiglie di persone decedute hanno protestato, criticando l'accoglienza e la gestione dell'addegenza dei propri cari. Ci siamo recati presso la struttura ospedaliera del quartiere Paolo VI per comprendere cosa sta succedendo e ascoltare la voce di dirigenti e medici. È difficile abituarsi a quello che può essere un'evoluzione, a volte anche un'evoluzione che porta poi al decesso. Io comprendo il dolore, lo comprendo tutto, lo comprendo. Però vi posso assicurare, posso assicurare i cittadini di Taranto, della provincia ionica, che questi operatori, questi primari, tutti gli operatori sanitari, dall'Hub Covid del Moscati ad andare alla Valle d'Itria, a Castellanete, a Manduria, dove tutto l'ospedale è diventato Covid, ce la stanno mettendo tutte. Questo lo dico con le lacrime agli occhi e con il cuore. Perché è così, ce la stanno mettendo tutta. Allora la destabilizzazione dei crimini organizzativi è dovuta ad attacchi che possono essere giustificati dal dolore, dall'atroce momento che si sta vivendo, ma che non giustificano poi questa strumentalizzazione. Voglio testimoniare la vicinanza della direzione strategica aziendale a tutti gli operatori che stanno lavorando e stanno tenendo in carico i pazienti Covid. La scuola adesso, la scuola in tempi di Covid, la regione ha deciso il non governo del rischio pandemico, presidi di nuovo contro l'ente di Via Gentile dopo il rientro in classe e in aula il 55,8% degli alunni pugliesi. In classe il 55,8% degli alunni pugliesi, i numeri post rientro sono dell'associazione presidi che ha monitorato il primo giorno a battenti aperti, 124 gli istituti che hanno risposto all'appello, scuole del primo ciclo per una platea di 90.000 iscritti, il nodo resta quello del doppio binario, di fruizione tra didattica in presenza e a distanza, che riporta al punto di partenza un braccio di ferro iniziato già nell'inverno scorso, come nel giorno dell'OCA. Si torna al Via, contestano i dirigenti scolastici, nella scuola dell'infanzia ha scelto di frequentare in classe il 55,1%, nella scuola primaria il 63,7% e nelle classi di prima media il 31,2%, cifre che rendono plasticamente la disomogeneità organizzativa, a mancare spiegano i presidi, continuano a essere le azioni di prevenzione diretta, come sul piano sanitario ad esempio di competenza esclusiva della regione, dagli screening periodici all'attivazione dei cosiddetti TOS, i team di operatori sanitari all'interno dei plessi, e così lamentano. Finisce che una misura attiva di governo si trasformi nel suo esatto contrario, una sorta di non-governo del rischio pandemico, che di fatti affida le speranze di diminuire il contagio al comportamento prudenziale dei singoli cittadini e soprattutto alla loro percezione. Voltiamo pagina, andiamo a Taranto, io abbandonato da tutti, così l'operaio di Arcelor Mittal è licenziato dopo aver condiviso sui social un invito alla visione di una fiction mediaset che tratta delle conseguenze delle missioni inquinanti di un'acciaieria. Ora l'operaio è assistito dall'USB, ma sentiamolo. Mi è arrivato il provvedimento disciplinare a casa, mezza raccomandata, dove mi dicevano che a causa di questo post che è stato trascritto sul rapporto, vedevano da parte loro che io ho leso l'immagine dell'azienda, che tra parentesi non è stata mai citata nel post, offendendo e quant'altro. Sono rimasto sbigottito, mi è caduto un mondo addosso perché non mai avrei immaginato una cosa del genere. Lui, Riccardo Cristello, racconta così il suo licenziamento dallo stabilimento Tarantino di Arcelor Mittal, licenziato perché qualche giorno fa ha condiviso sul social lo screenshot con invito ritenuto denigratorio a vedere la fiction mediaset svegliati amore mio sulle conseguenze delle missioni inquinanti di un'acciaieria. Riccardo, tecnico di controllo nel Siderurgico, non nasconde l'emozione, raccontando quanto gli è successo nel giro di pochi giorni, subito dopo aver postato quell'invito. Prima la cassa integrazione, poi il provvedimento disciplinare, poi ancora la lettera di licenziamento e anche l'abbandono da parte dei suoi capi. Riccardo Cristello si è poi affidato al sindacato indipendente USB. Il coordinatore, Francesco Rizzo, ha annunciato una giornata di mobilitazione per il 14 aprile prossimo con Sittin dinanzi ai cancelli della direzione dello stabilimento di Taranto. Nella giornata di ieri poi ho ricevuto la lettera ufficiale di licenziamento da parte dell'azienda perché ritiene che quello che è stato postato è oltraggioso, è troppo lesivo nei loro confronti e quant'altro. Questa è la situazione attuale, oggi mi trovo disoccupato con moglie e figli, mutuo e per fortuna ho l'appoggio dei familiari, degli amici. Oggi l'ho detto a mia madre, a mia suocera perché sono persone anziani e quindi non ho voluto esporre la famiglia prima, pensavo a guardare perché mia madre comunque è una persona che fino avanti a ieri era a letto. Col problema anche che stiamo vivendo di questa pandemia non è che si può fare molto, si può andare in giro e parlare, quindi ho aspettato fino all'ultimo per poter affrontare il discorso, farmi far finta di farmi vedere sereno, per darle coraggio pure a lei e darmi anche io coraggio di quello che sta avvenendo, che mi sembra una cosa a dir poco assurda. Diminuisce il numero di vittime di incidenti stradali nel capoluogo pugliese, questo emerge dal dossier rilasciato dalle polizie locali a 5 anni dall'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale. Dettagli. 60 le vittime negli incidenti stradali avvenuti nel capoluogo pugliese tra il 2011 e il 2015. Un numero che scende a 41 nel quinquennio successivo, vale a dire dal 2016, anno in cui è entrata in vigore la legge sull'omicidio stradale, fino a tutto il 2020. Il rapporto è delle polizie locali dei capoluoghi di provincia, dove si conferma la tendenza ad una progressiva riduzione. Un calo che potrebbe spiegarsi con l'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale, introduzione positiva della norma che introduce pene molto più severe per coloro che causano incidenti e vittime, guidando sotto l'effetto di droga o alcol. I dati raccolti sono ovunque positivi. Solo a Bari le persone denunciate nell'ultimo quinquennio per omicidio stradale sono 8, 6 quelle indagate. Il report elaborato dalle polizie locali riporta anche i dati regionali. A vestire la maglia nera è Bari, città dove è stato registrato il più alto numero di incidenti mortali. Seguito ad Affoggia con 28 vittime, Lecce con 22, Brindisi con 14. Nel capologo pugliese su 41 vittime, 5 i ciclisti travolti dalle auto o altri mezzi, 13 i cittadini investiti. Complessivamente gli incidenti conferiti rilevati in città sono stati 5.351. È tutto per questa edizione regionale. Buon proseguimento con i programmi di Antena Sud. Ben trovati con l'edizione provinciale della nostra informazione. Torniamo a parlare di vaccini. Oggi è una giornata speciale per l'Istituto Tumori di Bari dove ci saranno vaccinazioni fino a mezzanotte. Allora per parlarne siamo collegati in diretta con il dottor Pietro Milella, direttore sanitario dell'Istituto. Buon pomeriggio, dottore. Grazie. Dottore mi sente? Sono io a non sentirla. Non so se la regia mi può aiutare. Magari proviamo a ripristinare il collegamento. Allora andiamo avanti. Dicevamo, vaccinazioni fino a mezzanotte, dunque priorità a oncologici, a pazienti fragili, a persone affette da malattierare. Il punto appunto sui vaccini in Puglia dove si sono superate, l'abbiamo ascoltato prima, le 700.000 dosi inoculate. Sentiamo. Un'iniezione di speranza direttamente in corsia. Al Policlinico di Bari, chi sta lottando contro un tumore nei reparti di neurochirurgia, urologia e chirurgia, ha ricevuto direttamente a letto la prima dose di vaccino Pfizer. Un barlume di luce in un periodo buio in cui i pazienti, oltre a fronteggiare il male del secolo, vivono quotidianamente con l'incubo di un contagio da Covid che potrebbe complicare oltremodo le cose. E' partita da poche ore la somministrazione dei vaccini anti-Covid ai pazienti oncologici ricoverati nei reparti del Policlinico di Bari, effettuata da medici e infermieri sulle basi delle indicazioni ricevute dalle unità operative. Sono già oltre 20 i pazienti che hanno ricevuto la prima dose del siero con le somministrazioni che proseguiranno nei prossimi giorni per i malati in condizioni critiche e con patologie oncologiche. Negli ambulatori invece sono programmate le sedute vaccinali dei soggetti con tumore in attesa di intervento chirurgico e delle persone in chemioterapia in cura al Policlinico di Bari. Una protezione per i pazienti fragili per arginare un ulteriore nemico nella loro dura battaglia. Allora abbiamo ripristinato il nostro collegamento con Pietro Milella, direttore sanitario dell'Istituto Tumori, dove oggi ci saranno vaccinazioni fino a mezzanotte. Buon pomeriggio a voi, partiremo con un programma che prevede nel fine settimana la vaccinazione di 600 pazienti oncologici e circa altri 1800 persone che sono nelle categorie dei caregiver e dei conviventi di questi pazienti. Tutte le vaccinazioni saranno effettuate da un'equip che è costituita da medici oncologi e da oncoematologi che hanno in carico i pazienti, seguiti anche da infermieri delle unità operative interessate e con ausilio anche di personale addetto alla cura psicologica dei pazienti, quindi anche psicologi che prenderanno in carico questi pazienti per poterli poi sottoporre alle vaccinazioni. Dottore, è una macchina organizzativa che sembra facile ma anche alla luce di quello che ci dice non lo è, non è scontata insomma? È una macchina organizzativa che può risentire di diverse criticità che comunque stiamo cercando di rodare nel modo più efficiente possibile, evitando attese e nello stesso tempo ottimizzando il periodo in cui i pazienti dovranno essere all'interno dell'istituto. Dottore, allora specifichiamo, le vaccinazioni nella giornata di oggi sono già partite, andranno avanti fino a mezzanotte e poi nel fine settimana, specifichi lei ovviamente? Sì, allora le vaccinazioni nella giornata di oggi sono già partite e termineranno alle 24, mentre invece sia sabato che domenica partiranno dalle 8 del mattino e termineranno poi alle 24, con dei turni che prevedono un'affluenza di circa 40 pazienti, 30-40 pazienti ogni ora, in maniera da poter dividere nei vari ambienti che sono stati organizzati per l'esecuzione del vaccino. Dottore, vuole approfittare per lanciare un appello? Sì, è molto importante per poter velocizzare tutte queste attività che i pazienti vadano direttamente sul sito dell'oncologico e si scarichino i moduli, compilino già a casa i moduli sia della raccolta dei dati amnestici che del consenso in modo da evitare attese e supporti e venire già con il modulo precompilato. È chiaro che chi ha difficoltà a farlo potrà farlo con l'assistenza dei nostri operatori qui in istituto. Dottore, grazie infinitamente al dottor Pietro Minella, lo ricordiamo, direttore sanitario dell'Istituto Tumori di Bari. Grazie ancora e buon lavoro naturalmente. Grazie. Grazie anche a voi, arrivederci. Grazie. E allora andiamo avanti. 20.000 tamponi al giorno. E questo è l'obiettivo che si è prefissata intanto l'ASL di Bari che ha annunciato la programmazione per i prossimi giorni. Intanto è stato ampliato il numero di tamponi molecolari a disposizione dei medici di medicina generale da 6.000 a 15.000 al giorno. Obiettivo 20.000 somministrazioni al giorno. Ne è sicuro il direttore generale dell'ASL di Bari Antonio Sanguedolce che ha commentato così l'intesa consolidata con la medicina territoriale con il presidente della regione Michele Emiliano e l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco oltre ai referenti dei distretti sociosanitari. Tutte le vaccinazioni destinate agli over 80 sia a domicilio che nel proprio studio saranno completate dai medici di medicina generale sulla base degli elenchi dei soggetti vaccinati che sarà la stessa ASL a fornire per facilitare le procedure. Nel distretto unico di Bari sono 17 le postazioni a disposizione di 101 medici di cui 13 nel centro vaccinale di Apigia organizzate in tre fasce orarie di tre ore ciascuna sia il sabato che la domenica e quattro in via Fani sempre a disposizione in tre fasce orarie sabato e domenica inclusi in ognuna delle due giornate sono quindi attive 51 postazioni per un totale di 102. A partire dal 19 aprile in via Fani a Bari si potrà vaccinare tutti i pomeriggi dalle 13 alle 19, quattro medici ogni pomeriggio o due per due fasce orarie un'attività organizzativa che è in continuo sviluppo per potenziare sedi, postazioni, giorni e orari. In più per i medici che hanno necessità di vaccinare a domicilio i propri assistiti il distretto ha organizzato la consegna di siringhe preriempite. Intanto il DG della ASL Bari annuncia che da lunedì prossimo 12 aprile sarà ampliata la capacità di erogare tamponi molecolari in tutte le attuali sedi presenti sul territorio dedicati esclusivamente ai medici di medicina generale. Si passerà da 6.000 a 15.000 disponibilità di tamponi grazie a una estensione degli orari delle postazioni attualmente attive. Voltiamo pagina, continuiamo a trattare l'argomento Covid ma in modo diverso, parliamo infatti di economia una manifestazione segnata dal nervosismo e dalla rabbia di numerosi imprenditori che si sono radunati da tutta la provincia per dire basta alle chiusure attimi di concitazione a Torre Maggiore con il sindaco della cittadina Emilio Di Pumpo. Vediamo. Non è andato tutto bene, è il manifesto del corteo di protesta che stamani ha attraversato le vie di Torre Maggiore una manifestazione organizzata dalle partite IVA del Comune Dauno e al quale hanno aderito molti imprenditori di altre cittadine della Capitanata attimi di tensione e concitazione come quelli che hanno visto coinvolto il sindaco Emilio Di Pumpo che ha criticato fortemente ed apertamente le modalità in cui si è svolta la manifestazione ma il nervosismo è alto ed è espressione del disagio e della disperazione di molti che dopo un anno di chiusura delle proprie attività sono allo stremo delle proprie energie e non solo economiche. Ho preparato questo tavolo, entrate in un locale, igienizzatevi le mani, vi sparano la testa, controllano la temperatura ci hanno fatto dividere i commensali come se fossimo in carcere non va bene, abbiamo spiegato i soldi, ci abbiamo rimesso dei soldi e oggi diciamo basta, basta! E il sindaco Emilio Di Pumpo cerca di smorzare i toni della protesta pur mantenendo ferma la linea propositiva di suggerire soluzioni tempestive ai tavoli istituzionali. La mia promessa da sindaco è quella di prendere le stanze di questi imprenditori che oramai è quasi un anno, anzi è un anno che non lavorano e sono costretti a sopportare ancora i loro costi fissi di gestione e portarle sui tavoli istituzionali a chi li doviene per cercare di trovare quanto prima una soluzione che possa far ripartire in sicurezza l'economia dei nostri territori ma torno a ribadire l'importanza di cavalcare i tavoli istituzionali e non di cavalcare la pancia dei cittadini. Ancora un'altra protesta, questa volta nella BAT, quella dei parrucchieri che abbiamo già visto anche in altri comuni pugliesi. Il morale della favola non si sa, quando riapriamo non si sa. Noi abbiamo chiesto certezza, abbiamo chiesto date, cosa che il sindaco non ci può dare. che porterà la voce al governo ci farà sapere a breve perché il governo parlerà in questi giorni darà ulteriori informazioni sperando che riusciamo a riaprire le nostre attività in sicurezza. Protesta pacifica questa mattina barletta da parte dei parrucchieri della città siamo stanchi di aprire e di chiudere, non riusciamo più ad andare avanti si rivolgono al sindaco Cannito affinché possa spingere assieme agli altri sindaci per la riapertura dei loro saloni, la preoccupazione cresce per il loro futuro e per quello delle loro famiglie al momento certezze zero. Loro sono amareggiati di tutto ciò che sta succedendo a livello nazionale non è a livello nostro cittadino e locale. Il sindaco ci ha detto che ci aiuta per portare la nostra voce per farci rientrare nel decreto ristori perché siamo tagliati fuori. Abbiamo chiesto di poter portare avanti un piano vaccinale per poter vaccinare le attività essenziali tipo le nostre come codice Atego per poter ritornare a lavorare ed aprire la nostra attività che comunque abbiamo aperto dopo due o tre mesi l'anno scorso due o tre mesi di fermo, abbiamo aperto con tutte le dovute precauzioni per il piano che abbiamo fatto di rientro per il protocollo di apertura in sicurezza delle nostre attività. Quindi non credo che le nostre attività non sono mai state anche in questo anno di pandemia, non è stata mai stata bersagliata dai contagi, non è stata mai l'indice, c'è stato qualche piccolo caso. Intanto le spese continuano ad arrivare, i clienti chiamano e per sopravvivere si ricorre al lavoro nero. È arrivato a questo punto, questo adesso si chiama sopravvivenza. Il lavoro nero è in calza, è l'esigenza di vita, non abbiamo ristori, i fondi sono finiti, i figli piangono miseria. Non siamo stati agevolati in niente negli anni, comunque le forniture, le utenze domestiche e lavorative arrivano. Non abbiamo avuto nessuno sgrave fittale sui fitti, non abbiamo avuto nessun sgrave fiscale sulle tasse che comunque si condiviano a pagare, chiusi, tagliati fuori, cornuti e mazziati. Restiamo nella BAT perché adesso ascoltiamo la testimonianza di un imprenditore del settore tessile di Barletta con i negozi chiusi a causa del Covid, dicono siamo in grande difficoltà. Questo è il silenzio che intercorre sulle strade di Barletta e non solo, qualcuno forse ha dimenticato che i negozi sono chiusi e anche i produttori sono in fase calante. Sono le difficoltà del settore TAC, tessile, abbigliamento e calzaturiero, comparto croce edilizia della nostra Puglia che negli anni barcolla ma non molla. Qui ci troviamo a Barletta in un maglificio, città che fino agli anni 90, proprio per la forza di questo settore, era addirittura soprannominata la piccola Milano. Il Covid ed i negozi chiusi stanno ammazzando letteralmente questi imprenditori. Qualcosa, qualcosa in tre mesi, quattro mesi è stato prodotto, ma non si riesce a sopperire per tre mesi di produzione un anno intero di mancata produzione. Mi dispiace solamente che l'opinione pubblica e le TV parlino sempre di ristoranti e pizzerie e hanno dimenticato un comparto così importante che negli anni 90 ha fatto anche grande barletta per la produzione del tessile e del calzaturiero. Immaginate, negli anni 90 eravamo la seconda città per maggior reddito pro capite. In questo momento siamo l'ultima città per reddito pro capite. Capitolo sostegni e ristori, pochi spiccioli rispetto a spese di fitto, scadenze varie e bollette. Se un'azienda in un anno ha avuto una perdita di 40.000 euro, lo Stato ti garantiva il 15% sulla perdita che doveva essere del 30% su base annua. Il 15% di 40.000 sono 6.000 euro e questi 6.000 euro venivano spalmati per 12 mesi, in pratica 500 euro mensili. Considerando che una bolletta di luce, una bolletta di gas sono sui 1.000-1.500 euro e bolletta di gas siamo all'incirca 800 euro mensili, dite voi se un'azienda, per questo decreto di stori, ha possibilità di esistere. La cronaca, il titolare di un distributore di carburante di Cerignola nel Foggiano di 73 anni è stato ferito alla testa con il calcio di una pistola durante un tentativo di rapina nelle vicinanze della villa del comune Foggiano. La vittima è stata medicata sul posto dal 118 ma non ha riportato fortunatamente gravi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due banditi in sella ad uno scooter, entrambi con il volto coperto, uno armato di pistola, hanno bloccato l'uomo che era in sella a una bicicletta. L'uomo è stato già vittima in passato di una rapina ma non aveva con sé denaro per cui il tentativo e la rapina è fallita. 38.000 articoli contraffatti, 6 denunce, questo il bilancio di un'operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza al porto di Bari in realtà in tre operazioni diverse a contrasto dei traffici illeciti. 4 ingenti carichi di merce contraffatta e 6 persone denunciate. Il bilancio delle operazioni degli ultimi 30 giorni dei finanzieri del secondo gruppo Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli di Bari impegnati nel contrasto ai traffici illeciti nel porto di Bari. Nell'ambito del monitoraggio sui flussi commerciali sono state effettuate diverse operazioni di controllo doganale da Grecia, Bulgaria e Albania di calzature, capi di abbigliamento, giochi con noti marchi. Le attività di controllo hanno confermato la natura contraffatta dei marchi e dei modelli di circa 22.000 paia di calzature con brand falsi di Converse, Nike e Gucci provenienti dalla Grecia intercettate nel corso di due distinte operazioni. In un'altra operazione sono stati individuati circa 500 capi di abbigliamento di cui è stata intercettata la contraffazione di marchi come Versace, Discuored, Stone Island, Balenciaga, Givenchy, Dior, Moncler, Off-White, Kenzo, Gucci, Palm Angels, Fendi, Moschino e Dolce Gabbana. Questi ultimi, appena sbarcati da un traghetto commerciale proveniente dall'Albania e non dichiarati in dogana, erano occultati all'interno di un camion frigo e riportavano anche la dicitura Made in Italy. Infine, in un'ultima operazione, sono stati individuati circa 5.500 confezioni di carte da gioco 1 della Mattel, noto prodotto per bambini, risultate anche esse contraffatte e nello stesso camion sono stati trovati 10.000 pezzi tra giochi e materiale elettrico vario con marchio CIE indebitamente a posto. Doveva essere il campo di tulipani più grande della Puglia, ma la gelata notturna ha distrutto i sogni di un giovane agricoltore foggiano. I sogni svaniscono in una notte e non perché questi sogni non si fossero materializzati in quello che doveva essere il più grande campo di tulipani in Puglia che nei giorni scorsi avevamo fatto vedere. L'idea innovativa è di un giovane imprenditore foggiano, Giuseppe Savino, il quale ha sempre mostrato con orgoglio il suo campo di tulipani ai piedi del Gargano. Entro aprile dovevano sbocciare 50.000 tuberi, una distesa immensa di colori. Piantare bellezza per creare stupore, il motto di Savino, disponibile ad accogliere i visitatori che avrebbero potuto coglierli direttamente sul posto. Un modo originale per promuovere la bellezza dalla quale si può trarre anche profitto ma che il gelo nella scorsa notte ha distrutto. Le immagini sono eloquenti. Stanotte ha scritto su Facebook il giovane agricoltore foggiano La gelata ha distrutto il campo di tulipani. Piango da un'ora ma devo arrendermi con un cuore pieno di gratitudine per ciò che questo campo ha rappresentato per tantissime persone. Savino lunedì prossimo quei tulipani li avrebbe fatti partire per gli ospedali. tulipani sospesi per portare gioia e colore nei luoghi dove oggi più che mai si combatte la battaglia contro il Covid. È duro da un giorno all'altro non trovarsi più nulla conclude il giovane imprenditore aprendo però alla speranza. Statemi vicino, dice devo ritrovare le forze. La politica è sempre a foggia prevista per oggi pomeriggio una riunione in cui il sindaco Landella prenderà per la prima volta in serie a considerazione l'azzeramento della giunta e dunque un cambio di passo netto nella gestione amministrativa. Continua la linea d'intesa con Forza Italia per dare un segnale di cambiamento alla cittadinanza l'azzeramento della giunta quali sono gli aggiornamenti? Beh, gli aggiornamenti sono riguardano praticamente una riunione che si terrà questo pomeriggio nella quale il sindaco prenderà diciamo per la prima volta in seria considerazione la possibilità dell'azzeramento da noi proposto da ormai qualche giorno o meglio da subito dopo gli eventi degli ultimi tempi e noi pensiamo che sia un primo passo per esercitare un vero e proprio cambio di passo una discontinuità con il passato senza andare a sindacare quindi non è un giudizio contro chi c'è e per dare senso e dare soprattutto sostanza a quello che da più parti è richiesto ovvero di una consapevolezza di prendere diciamo davvero coscienza di ciò che è successo e invertire il passo. Si prospetta dunque la possibilità che si insedi un'aggiunta di maggior peso composta da tecnici ed esperti così come indicato anche dalle direttive nazionali? Noi abbiamo delle direzioni nette che ci sono state impartite dai livelli nazionali quindi da Giorgia Meloni in particolare attraverso il suo uomo di punta cioè il capo del Dipartimento Sicurezza e Legalità ovvero l'avvocato onorevole Bignami che ci ha in qualche maniera descritto qual è il percorso per uscire da queste strette di conseguenza noi che avevamo già in animo di seguire quella via stiamo seguendo appunto queste indicazioni. A Bari adesso dove nei prossimi giorni saranno installate le 5 nuove isole ecologiche nel quartiere a sud della città il quartiere Sant'Anna ad annunciarlo la Mio Puglia. Riorganizzati i servizi di raccolta stradale nel quartiere Sant'Anna di Bari con l'attivazione di 5 nuove isole ecologiche in sostituzione dei cassonetti stradali ad annunciarlo la Mio Puglia che in questo modo ha accolto le richieste dei residenti posizionando per strada le postazioni per la raccolta differenziata rimuovendo i vecchi contenitori ormai usurati. La riorganizzazione dei servizi di raccolta Sant'Anna che a Mio Puglia sta vagliando come un nuovo modello da sperimentare nei quartieri caratterizzati da un'ampia viabilità offre un impatto visivo più gradevole dalla possibilità ai cittadini di conferire in un'unica isola ecologica tutte le frazioni di rifiuto separate in casa garantisce una maggiore capienza per i rifiuti evitando che vengano lasciati all'esterno dei cassonetti e che si disperdano sul territorio impedisce lo spostamento dei contenitori e infine ne assicura una durata maggiore in quanto l'isola ecologica è composta da contenitori in metallo. L'azienda ha compiuto un lungo e approfondito lavoro di analisi del territorio spiega il presidente di Mio Puglia Sabino Persichella dopo aver accolto le richieste avanzate dal sindaco e dai residenti stessi. Si tratta di un esempio concreto della nuova organizzazione dei servizi forniti da Mio Puglia non più interventi per tamponare le emergenze ma un adeguato e attento lavoro di analisi progettazione e risoluzione dei problemi che consenta, conclude, di migliorare la qualità della vita dei cittadini. A Foggia è in corso l'azione dell'Associazione dei Costruttori Edili per promuovere opportunità offerte dal cosiddetto super bonus 110% ma scopriamone di più con Antonella Davola. La ripresa della crescita la cosiddetta ripartenza del paese passa innanzitutto dalla ripresa edilizia è attraverso un'attenta applicazione delle misure governative che vanno accompagnate con tempismo e spirito d'impresa. E in questa convinzione del presidente del Lance Foggia Evano Chierici che si inserisce l'azione dell'Associazione volta a promuovere le opportunità offerte dal cosiddetto super bonus 110% un meccanismo studiato in sede legislativa e già tecnicamente operativo. Il super bonus in pratica è la possibilità di utilizzare una leva fiscale, dei bonus fiscali per poter ristrutturare il proprio immobile e renderlo energeticamente più competitivo e farlo sollevare di due classi energetiche e quindi si hanno anche una serie di risparmi sotto il profilo energetico. La cosa vale anche per la sismicità per adeguare il patrimonio immobiliare nazionale alle attuali esigenze. Un'occasione ripetibile che è rivolta a diverse aree di interesse, a diversi soggetti destinatari. Assolutamente, ma per i condomini, abitazioni private singole è assolutamente rilevabile da tutti quanti. Noi abbiamo avviato un portale sulla scorta di altre territoriali del nord in cui si può fare una sorta di pre-screening. In pratica già si può verificare la possibilità di accedere al bonus e gli importi a cui accedere. Poi ci sono tutta una serie di FAQ dove domande e risposta per dare una serie di informazioni al cittadino. E comunque la cosa importante è che noi riusciamo a dare un servizio completo, cioè dalla prima richiesta fino alla realizzazione senza che il cittadino si debba preoccupare minimamente di alcun che. È tutto per questa edizione. Grazie per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Antena Sud. Buon pomeriggio. Grazie.